Riconosciamo un percorso, un percorso fatto di sacrificio, di impegno, di programmazione, ma anche di tanto talento. E quindi è bello poter riconoscere a queste squadre di calcio l'insegnamento dei valori dello sport, soprattutto per i nostri giovani. Celebriamo sicuramente grandi squadre blasonate, dall'Inter all'Atalanta, il successo del Como, il successo del Mantua. Nel mio cuore da milanese è sicuramente il percorso dell'Alcione. L'Alcione è una squadra che ha sempre fatto il settore giovanile, un percorso di crescita dei ragazzi milanesi. E quindi per la prima volta ha una squadra che gioca a livello professionistico, però la sua storia è una storia fatta di educazione allo sport, una storia di giovani. Un'annata straordinaria, quella delle squadre lombarde che ha riportato sul tetto d'Italia ed Europa nel caso dell'Inter all'Atalanta, ma non solo. Anche l'Alcione, il Mantua, il Como rappresentando il calcio italiano come lombardo soprattutto, come un grande esempio di quello che è il messaggio che vogliamo sempre veicolare. Sia quello dello sport come salute, come impegno, come passione, come regole della vita, come etica. Insomma, tanti bellissimi valori. Oggi abbiamo anche premiato una tifosa speciale, Lisa, che sta facendo una importantissima battaglia contro un brutto male che speriamo possa superare con l'aiuto anche di tutte le istituzioni, della ricerca e delle associazioni che come sempre sono una forza trainante qui in regione Lombardia.